Ciao bimbi, oggi vorremmo rivedere un'attività con la pittura. Si prendono diversi tipi di colori, si mettono sul foglio bianco, scegliete i colori che vi piacciono di più, io ho scelto il verde, il viola, il rosa, colorate solo una parte del foglio, il giallo, poi arriva il momento magico, chiudete il foglio, fate un piccolo massaggio, ed ecco che per magia ci sarà una bellissima immagine, spero che questa attività vi sia piaciuta, vi mando un grandissimo bacio, ciao!